Sì, amici, mi dispiace che, ovviamente, portò per lavoro, sono andato via, fino a buon lavoro. Guardate, lui è stato prego, è serio, però non ha giocato ancora di più questa debuta per regalare al mondo un'anima che è una pessima cosa da fare. Tra una situazione va fatta, dico da giove, dico da parte di famiglia, diciamo, guardate, qualcuno che mi ha preceduto, ha usato un termine che mi ha truccato molto, dice, in questo momento è una verità di indagare, ma qua si sta cercando di dare la dignità umana. E questa è una cosa di un amici che ho assistito e non stato attento, tutti gli studenti, mi ha veramente segnato, perché di questo che stiamo parlando, della dignità umana, guardate, io che da poco mi sono appassato a scendere le gambe politiche, tutti i giorni, come se andiamo contro i cittadini che ci fermano, per il vostro risultato, e non è più ovviamente l'occupazione giovane, ma quella cosa di parte di famiglia, di famiglia, di famiglia, e che non riesco, non ha fatto il mio, ma non ha fatto la volontà di mangiare. E la politica, in questo momento, il grande decadimento a destra e sinistra, ovviamente è che questo è una responsabilità, io non voglio essere maiore, ma voglio essere realista, perché al momento che mi ha visto come un c'è questa mattina, io sono comune di questo, ma lo dico con una tantezza, e non solo un tipo di fare spesso, però, e iniziamo di fare la cosa da sempre, ognuno dice la sua, il deputato regionale, la testura delle attività produttive, ovvero il padre del nostro, poi dice il lagone politico, dal PDN, dal C2M, dal C2M, dal C2M, chi ha fatto questo, chi ha fatto un problema, purtroppo noi dobbiamo capire il momento in cui siamo in mezzo, guardate, il momento in cui siamo in mezzo, non è l'egolismo pensionale che porta a risolvere il problema della razionità, il problema deve essere che tutti quanti siamo, perché non si dovrà parlare di più, di più, di più, se noi torniamo ad usare i decideri, secondo me la stiamo, anche se c'è il problema, anche se c'è una forza fisica che in Italia ha cercato di vendicare e di salvaguardare troppo delle cose. Ebbene, ieri ho fatto un tipo in televisione in un dipartito che diceva che in mezzo del giorno ci sono stati scorsati nel decennio degli anni, ieri, proprio per rincanare il tempo, tra i suoi e tra i suoi e tra i punti sui suoi e dove andare a mezzo giorno. Questo sì che la politica dei maricani, non va di tutta la nostra politica, soprattutto fino a mezzo giorno, che tutti i deputati, ovviamente in parte sia di maggioranza che di condizioni, devono ricominciare a capire che la campagna è un problema nazionale. E questo problema ovviamente ci porterà la terriba, soprattutto per preoccupazioni che dobbiamo salvaguardare per quelle che non c'è. Vedi, il caso che qualcuno prima diceva... io ricordo che quando diceva la terza giornata del sud, si parlava di aree estriane, si parlava di molte libere, le 12 euro di buoni, le bianche stanza appena e la fine del mondo erano. E noi oggi abbiamo un'unica eccellente che ci ha detto che su questo territorio e dobbiamo cercare in ultimo, questo lo dico a tutti, bisogna guardare questa questa eccellenza, perché altrimenti poter si assentere a modo scelto, quello di allontanare o di rimanere positiva con i principi. E su questo che la politica si deve interrogare il gioco, io c'ho guardo a ferro che hai la frase qui del gioco e, da questo che si è capito, va a fare, che si ha amanecili a te, che si ha sinistro, questa è la frase qui che crea con l'initi, a Bacchino Pina e a Bacchino Pazzo. Il problema è che la sensibilità un'altra, eh, questo è il nostro concetto di Gitaura, è la sensibilità di un quattro che siamo qui, qui in Salatina, che scrive la solidarietà, ma dobbiamo fare parte, dobbiamo fare parte del nostro centro, perché la politica, se si vuole e le dice a parte del no, ecco, mi fa piacere che l'assessore da Roletato si oggi è indeninuto in questa vicenda, però io vi invito che ora questa vicenda, l'assessore l'essore dell'applicano perché Abbiamo la stessa domanda molto prestigioso, in questo momento che, ovviamente, vicino all'assessore Napi, oggi il vero problema dell'Italia, del terzo gioco, della campagna, della provincia di Napoli, man mano che scendiamo le condizioni si accravano sempre di più, è l'occupazione. E noi, troppo, o ormai che mi intende, in cui cazò, se avessi una situazione veramente distante, dobbiamo pensare a una città di regalo, dobbiamo cercare di stare come umano a questa città, oggi non ci dobbiamo criticare, come abbiamo visto, a più di mezzo, dobbiamo presentare gli strumenti, come il culto, come il teatro, come gli ares di testa, perché ci sono aziende, ecco, noi, diciamo, se ne vanno via, bene, via, ma noi, politica, ne creiamo dalla parte, invece, aziende del nord, aziende del l'estero, per creare così di lavoro su questo territorio. E la fila è questa, per esempio, che noi dobbiamo cercare di mettere in campo di un diritto, gli strumenti, invece, a creare così di lavoro su questo territorio. E questo non possiamo fare, solo facendo, ovviamente, i prodotti, la dobbiamo fare di fatto. E la fila che io, ovviamente, mando a questa amministrazione, è proprio da questo tema. Sì, fare il passaggio, stare in prima vita, davanti ai camicetti, per stare in passaggio, non c'è da molto grande attività, con grande rispetto ai cittadini, ma dobbiamo avere la capacità di creare un'opportunità, per avere potenzialità, per risorse e questo territorio ci sono. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.